perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici e so che non è facile, ma sappiate che queste vostre rinunce, piccole e grandi, stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie, delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrocchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa. Nessuno quindi deve pensare che già domani, nei prossimi giorni, potremo misurare l'impatto di queste misure. Per avere un riscontro effettivo dovremo attendere quindi un paio, come dicevo, di settimane. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili.